Ciao ragazzi, sono Gasorecchio di Tigra, benvenuti a quest'altro video un po' speciale. Se cerchiamo Atari Breakout su Google Immagini usando Chrome, ecco cosa otteniamo. È un giochino abbastanza simpatico, ma io mi sto già annoiando. Spero vi sia piaciuto il video precedente, quello del dinosauro. Aspetta che se no dopo magari non sentite più quello che dico. Spero vi sia piaciuto il giochino del dinosauro. E vi faccio una piccola anticipazione, intanto che continuo, così non vi annoiate a sentirmi parlare, intanto guardate anche un po' di cazzate. Il prossimo video che farò sarà un altro speciale, magari c'è chi sa già queste cose, ma magari c'è anche chi non le sa. C'era un video speciale su alcuni eventi, scherzi, perché molte cose sono state fatte per l'uno d'aprile di quello che vi mostrerò nel prossimo video. Infatti è da Chrome, che ha pubblicato alcuni scherzini e easter egg. Niente, è una cosa che mi era venuta in mente, simpatica da fare, magari vi può interessare. Adesso non vi interessa potete farmi ricordare il video. Bonca, tutto qui. Niente. Se vi interessa questo giochino potete cercare Atari Breakout su Chrome, però non dovete usare Chrome. Mi viene da dire Google e non Google Chrome. Taglio Chrome, non so perché. Vabbè, se questo video vi è piaciuto mettete mi piace, commentate, iscrivetevi al canale, condividete il video. Visitate la pagina Facebook e state pronti perché dopo il prossimo video speciale che vi ho appena descritto tornerò a caricare gli ultimi, adesso non mi ricordo, dovrebbero essere gli ultimi due video di Neobomberman. Non mi ricordo quanti ne mancano, dovrebbero essere uno o due. Comunque, vabbè, spero vi sia stato interessante. Ciao raga.